...proprio sulla biosicurezza. Dicevamo delle decisioni della BCE sui tassi di interesse che torneranno a salire dopo 11 anni. Un lungo periodo che ha fatto cambiare pelle alle banche italiane. Meno profitti sui prestiti, molto di più sulle commissioni, secondo quanto emerge da un'indagine della Fabi, il maggior sindacato dei bancari, che siamo in grado di anticiparvi. Si chiamano istituti di credito, ma a quanto pare con gli ultimi anni fanno meno credito e si sono specializzate nella vendita di prodotti finanziari. Il risultato è che i margini, i profitti per intenderci, arrivano molto di più dalle commissioni che sono diventate. Oltremodo l'Aute che non dai una volta amati prestiti in cifre 44 miliardi, ovvero il 53,6% del totale dei ricavi, arriva dalle commissioni, il restante 46,4% dai finanziamenti concessi a famiglie e imprese. Ed è sempre nelle cifre che si avverte, si percepisce il cambiamento in pochi anni per di più. Appena due nel 2020 il distacco era di 700 milioni, oggi è di quasi 6 miliardi. In altre parole, con la fase dei tassi zero o negativi, le banche hanno cambiato pelle, secondo il segretario della Fabi, Lando Maria Sileoni. Sta avvenendo meno quel ruolo sociale che la banca aveva fino a qualche anno fa, perché oggi le banche per guadagnare, per guadagnare il più possibile, limitano i prestiti e vendono più prodotti finanziari e rassicurati. Negozi finanziari su cui pesa, secondo l'indagine, la pressione sempre più crescente dei giganti di internet che sono entrati pesantemente nel mercato dei pagamenti digitali e del credito al consumo. Americo Mancini, GR1.